Buongiorno agli amici di Ianta, approfondimento per quanto riguarda il calcio, parlando sempre di Samb del martedì, quest'oggi non con i calciatori, però sempre con addetti per quanto riguarda la Samb. Abbiamo due amici di noi Samb, è già venuto il presidente Guido Barra, è venuto anche qualche altro esponente, oggi due persone nuove che salutiamo e ringraziamo, Carlo Ferri, buongiorno, e Giacomo Traini, buongiorno Giacomo. Io vorrei partire innanzitutto prima di parlare di calcio, di questa cosa bella che abbiamo visto domenica in tribuna, questo bentornato tra noi che avete esposto in tribuna, giustamente per il bentornato a quello che è il discorso di tifosi in curva, o no? Sì, sì, è un semplice bentornato, esattamente. Ci sentivamo di fare questo, lanciare, mandare questo messaggio ai ragazzi della curva, in particolare ai diffidati, che se non sbaglio erano circa 30, quelli che sono rientrati dalla domenica precedente e domenica scorsa. E niente, semplice messaggio di bentornati, siccome loro comunque, poi magari approfondiremo, ci danno sempre una mano quando serve all'associazione in tutte le nostre iniziative, basta solo chiamarli, semplice bentornato. Sentiamo, grazie Carlo, Giacomo, una domenica importante, non è andata bene sul traspetto risultato, però abbiamo rivisto il pubblico, che forse lo possiamo avvicinare quando venne il San Cesario, cioè stavamo intorno alle 4.000 e passa persone, quindi una bella coreografia di pubblico, peccato per il risultato, però diciamo che abbiamo tutte le componenti per far tornare grande la San Benedettese. Ma sicuramente il pubblico alla Samba non manca, cioè il pubblico è sempre e comunque il valore aggiunto della San Benedettese, in qualsiasi categoria, anche se noi facciamo i dovuti scongiuri, dovessimo scendere nelle categorie, per assurdo in terza categoria, noi ci stiamo sempre. La Samba si è sempre distinta. Per noi abbiamo formato appunto questa associazione perché la Samba non deve morire mai, e non deve fallire più, fino a quando ci stiamo noi la Samba non fallirà più. Ma questa è una bella cosa anche perché da poche persone sappiamo che il gruppo si è arricchito di mese in mese, di anno in anno. So che stai facendo tante cose, ecco anche la vostra presenza anche per sapere su quali sono i progetti, avete in essere qualcosa, oltre a gestire il settore giovanile, però diciamo siete il valido partner per la presidenza Moni di Bucci. Noi siamo nati per coadiuare la San Benedettese, noi non ci vogliamo né sostituire alla proprietà ma bensì aiutarla in quelli che sono i compiti per andare avanti. Tornando al discorso dello strigione di domenica, apro una parentesi, ce lo siamo sentiti in cuore in quanto la curva è il cuore pulsante della tifoseria e quindi era dovuto questo strigione. e chiudo la parentesi. Sì, noi nella gestione del settore giovanile ringraziamo Isidori, il costruttore che ci ha dato la possibilità di prendere la gestione dei campi ex Fanta Calcio, adesso si chiamerà aiutami, centro sportivo, associazione, ci piacerebbe appunto una delle prime cose che ci sono in mente, centro sportivo, associazione, noi siamo. Sembra anche giusto, anche perché per rispetto a quello che fanno. Esattamente. E per, ecco, per, sempre per andare incontro a quelle che sono le esigenze del settore giovanile che molto spesso non ha le strutture dove allenarsi e mi sembra una cosa assurda che una società come la San Benedettese non abbia strutture e cambi per allenarsi. Noi nel nostro piccolo abbiamo cercato di dargli una grossa mano prendendo la gestione del campo di Monzambolo e non ultimi questi cambi ex Fanta Calcio per sempre per cercare di aiutare a crescere questo settore giovanile. Ecco, come tempistica Giacomo, fra quanto tempo si avrà la struttura, più o meno, indicativamente? Ma la struttura già è efficientissima e sabato c'è stata una partita con i pari età dell'Agraria e già quotidianamente... Quindi già è operativa a tutti gli effetti? Operativa a tutti gli effetti. Ok, sentiamo Carlo, grazie Giacomo. Torniamo al calcio giocato. Domenica giustamente dalla festa del primo tempo c'è stata la delusione finale. Diciamo a bocce ferme come possiamo un po'... C'è sfortuna, diciamo forse il mister ha voluto un po' esagerare con i giovani in difesa contro la squadra di Marpioni. Cioè, secondo voi? Secondo me. Secondo te? Premesso che non ho la ben minima competenza in materia tecnica e quindi me ne guardo bene dal commentare. Però dico da tifoso quello che ho visto. Innanzitutto ho visto Domenica, adesso sembrava un paradosso. Certo, se prendiamo in considerazione il discorso esclusivamente legato al risultato, siamo tutti scontenti e è difficile parlare bene quando uno guarda i lati positivi. Io vedo che ho visto Domenica una bella partita, innanzitutto. Una partita magari non per 90 o quelli che sono stati i minuti, però ho visto una bella partita dove c'era voglia di combattere e dove hanno dato tanto. Poi che dire, scelte tecniche... Diciamo anche gli episodi. Io volevo sottolineare questo. A me non piace mai parlare di episodi. Perché poi sembra che uno minimizzi. Però mettiamoci un po' quello che abbiamo visto appunto. Due calciatori per noi fondamentali che si sono, se non ho capito bene, fatto male. Spero, non so, stamattina forse c'era qualche. Spero, non più di tanto. Sostituzioni, se vogliamo, costrette. Io ho visto, almeno che ho visto la tribuna, sulla lavagna c'era un 4 che è sostituito da Padovani. Poi siamo stati costretti invece a fare un'altra cosa. Di episodi potremmo parlare pure che un bravissimo ragazzo, io ho notato, un bravissimo ragazzo, oltretutto under, nella porta avversaria, che ha voluto in tutta maniera imitare i grandi portieri. Potremmo parlare di episodi andando avanti. Vabbè, inutile che parliamo degli arbitri, parliamo di Civitanova, parliamo di San Nicolò. Però, mentre a San Nicolò, sinceramente non ho neanche voglia di pensare a dire che non ci hanno dato rigore, perché comunque non ho visto tutto sto ragazzo, domenica potrei appellarmi a me. Era abbastanza netto, certo. Diciamo che comunque noi stiamo parlando di domenica. Io dico pure che oggi è martedì e mi piace parlare di domenica prossima. Cioè, nel senso, comunque alla fine, vabbè, abbiamo giocato, io ritengo, discretamente, abbastanza bene. Siamo stati, attacchiamoci episodi, quindi possiamo dire sfortunati, penalizzati o quello che vogliamo, però pensiamo a domenica, alla fine stiamo a quattro punti, se non sbaglio. Sì, esatto. Abbiamo tutto il tempo per poter recuperare. Poi comunque, via del rettangolo di gioco, ribadisco, io domenica ho visto qualcosa, uno spettacolo fantastico. Sì, è stata una bella partita. Stavo guardare a nord-ovest, una tribuna che è il cuore pulsante, se ne ho detto prima, è più pulsante di così, io riguardavo le immagini, mi sentirete. E anche aggiungo la tribuna laterale, perché ho visto una bella tribuna laterale. Sì, esatto, abbastanza pieno. Diamo atto pure alla tifosiera ospite, perché ho visto anche una bella tifosiera ospite. 550 persone circa. Eh, ciò voglio dire, di solito sono abitato a vedere noi, se non altro qualcuno che si avvicina a noi. Capobasso c'è una sua storia, infatti diceva alla fine, non siamo dilettanti, bisogna rispettare anche noi. Se erano 550, io ho visto 550 persone che applaudivano, ci sono persone che incoraggiano. Quindi, bello spettacolo, peccato il risultato, che dire. Se voglio sentire Giacomo che ne pensa, perché io un po' nell'intervista del dopogara con il mister, il direttore sportivo, anche con Di Paola, che a mio avviso, non è perché l'esperienza capisco più degli altri, per me molto ha condizionato l'uscita anticipata di Napolano. Cioè, noi, senza Napolano, che ti può inventare qualsiasi cosa, il calcio piazzato, la punizione all'ultimo momento, il tiro un po' della domenica, diciamo che un 30% l'abbiamo risentito. Non so se sei d'accordo già. Sì, sono d'accordo. Però volevo aprire una parentesi riguardo al discorso che ha fatto l'amico Carlo, che noi come associazione invitiamo tutti gli sportivi domenica a riempire lo stadio di Chiedi, perché comunque la Samb ha bisogno del nostro apporto. Esatto. E a prescindere, noi ci dobbiamo essere. Qualsiasi sia il risultato finale, lasciamoci alle spalle la partita di domenica e pensiamo alla successiva. Anche perché, ti rubo dieci secondi, quando la curva ha voluto la squadra sotto la curva, non vi lasceremo mai. Cioè, questi sono dei cori che vanno a parlare da soli, perché giustamente non è perché il tifo c'è solo quando si vince. Riallacciandoci al discorso napolano, è vero che la Samb è napolano dipendente. Purtroppo non tutte le squadre si possono permettere napolano. Ad esempio, se facciamo l'esempio del Fano, se al Fano togliamo Sivilla, il Fano va in difficoltà. C'ha problemi, certo. Tutte le squadre di vertice, se tu togli loro il massimo esponente, vanno in difficoltà. Però posso rammentare che comunque, come diceva prima Carlo, la Samb è stata quest'anno molto condizionata da episodi sfavorevoli. Vedisi Iesi, vedisi anche la stessa Civitanoese, che se l'albitro non gli avesse regalato il calcio di rigore con l'espulsione di Viti, stavamo a commentare un altro risultato. La stessa partita di San Nicolò è vero che non abbiamo giocato e quant'altro. Però è anche vero che c'era un rigore sacro santo. Questo non per giustificare il tecnico, perché non sta a noi stabilire quelle che sono le colpe o i favori del tecnico. Noi possiamo analizzare quelle che sono le partite. Cioè, se il rigore c'è, tu me lo devi dare. Esatto. Domenica il rigore su Baldinini era sacro santo. L'espulsione del numero 5 sul secondo fallo su Tozzi Borsoi era sacro santo. Cioè, non mi voglio appellare. E qui apro una critica nei confronti della stampa. Non voi. Però, cioè, non rimarchiamo mai questo fatto, mentre tutti gli altri si lamentano degli albitraggi. Vedisi Iesi, la settimana prima che noi andassimo su, tutti i giorni si lamentavano degli albitraggi. Noi che ci stanno massacrando, perché per un fumogeno acceso in quel di Pesaro ci hanno fatto 600 euro di multa, ai Fermani hanno sparato tre bombe carta e non gli hanno neanche fatto un centesimo di multa. La stessa Iesina, stesso trattamento, 1500 euro di multa alla San Benedettese, 1500 euro di multa alla Iesina, dopodiché la multa della Iesina gli è stata tolta. Ieri sera è intervenuto il presidente Monedi alla trasmissione dove siamo stati dicendoci che alla Iesina era stata tolta la multa. Quindi non ci sta lo stesso peso. Non ci sta lo stesso trattamento che viene fatto alle altre società. E questo voi della stampa lo dovete rimarcare. Certo, certo. Non per giustificare, ma quando sì, per avere lo stesso trattamento che hanno anche gli altri. esatto. Anche perché, voglio dire, poche realtà possono avere un pubblico di questa portata. Che fanno la differenza. Che fanno la differenza. Però lo potrebbero fare anche in negativo. Esatto. Perché arriva al punto che scoppia la scindilla perché dagli oggi, dagli domani non siamo sempre abituati a sopportare i trattamenti negativi. Anche perché i ragazzi per andare in trasferta si spendono dei soldi. E quindi quando tu ti vedi sempre in ogni circostanza, ti vedi maltrattato, alla fin fine uno può perdere anche l'estate. Grazie Giacomo. Un'ultima domanda a Carlo. Volevo solo chiederti questo, che giustamente è un po' il pensiero di tutti. Quanto dipenderà l'esito, il futuro del campionato in virtù di queste quattro partite che tutti ipotizzavamo? Cioè il campo basso l'abbiamo già purtroppo sopportata, ci abbiamo Chieti, poi ci abbiamo Matelica e ci abbiamo Maceratese. Tanto dipenderà il futuro della Samba da queste partite oppure bisogna viverla domenica dopo domenica? Io sento dire, non ho competenza tecnica, potrei dire la mia da tifoso. In televisione sento spesso dire, magari quando si intervistano i club di Serie Acerico, viviamo la partita alla giornata, quindi pensiamo alla prossima senza pensare a quella successiva ancora. Chiaro che detto questo dipende molto secondo me da queste partite che ci aspettano. Vingerle, perderle, pareggiarle fanno una differenza non da poco. Non che con questo noi vogliamo sottovalutare gli altri incontri o le altre società. Massimo rispetto per tutti, sappiamo che il calcio ci può riservare sorpresa. E non ti regala niente nessuno. Non ti regala niente nessuno, anzi, abbiamo visto l'anno scorso che facevano un campionato, un'altra categoria, un'altra situazione, un campionato per affrontare noi. Quindi sì, dipende molto da queste tre partite, sono fondamentali ma non sono sicuramente le tre rimaste. Ce ne stanno tante altre. Ok, io ringrazio gli esperimenti di noi Samp, Giacomo Traini e Carlo Ferri, l'in bocca al lupo per quello che fate e l'incitamento che mi unisca a voi, che domenica il grande pubblico sia presente anche a Chieti. Grazie e in bocca al lupo per tutto. Prego, prego, prego Giacomo. Vogliamo ricordare a tutti gli sportivi che è da decidere il giorno, ma molto probabilmente o il 21 o il 22 o il 23, dipende dalla disponibilità del Palazzetto dello Sport, vorremmo organizzare una grandiosa festa del popolo rosso-blu, per l'orgoglio rosso-blu. Cercheremo di essere presenti anche noi. E ci fa immensamente piacere. Grazie Giacomo. Prima di ringraziare anche io te che ci hai invitato, voglio ricordare velocemente, se posso rubare due minuti, i prossimi impegni che abbiamo in programma. Una è questa della festa, poi serve la festa-cena di Natale, che vogliamo fare in collaborazione con la Curva, per il fatto di ciò che ci danno sempre una mano. Poi stiamo lavorando per il torneo Borgonovo, secondo memoria Borgonovo, che le date sono a fissare, probabilmente sempre legate al ponte del primo maggio. Poi, questo ci tengo a dirlo perché l'associazione Mio Gallipoli, si dovrebbe chiamare, nella vesti del presidente Attilio Lupo, ci ha contattato un paio di settimane fa, ennesimo attestato di stima, incitazione, ci fa i suoi complimenti, però ci ha tenuto a farci capire che noi non siamo un'associazione in Italia. Noi per loro e per altri siamo l'associazione di riferimento, tanto che ci hanno invitato a un convegno che si svolgerà in concomitanza con un torneo, e loro ci hanno invitato anche a questo torneo, 16, 17, 18 febbraio, qualcosa del genere, loro si chiama, dovrebbe essere legato al Carnevale di Gallipoli, qualcosa del genere. Ci hanno invitato ovviamente le giovanili a questo torneo, e al convegno ci vogliono presenti per portare la nostra testimonianza alla città, eccetera, eccetera. Detto questo, voglio ringraziare solo quelli che nell'associazione, noi magari per un motivo o per l'altro ci vediamo un po' più spesso, non si vedono, fanno parte dell'associazione, i ragazzi che ci hanno mano all'ufficio stampa, Domenico, Edoardo, Michele, Giada, le persone che non si vedono mai, Giuliano, Marcello, o dallo staff tecnico e tutto il resto. Si può essere e far parte dell'associazione anche solo dando una mano in questa maniera, quindi l'associazione dipende tanto dagli altri, prima che da noi. Voi ci siete. Grazie ancora e buon luogo per tutto. Crepe il lupo.